avete la bacchetta magica? cioè adesso non sto puntando il dito verso una testata giornalistica verso uno youtuber verso un articolo in particolare no, sto puntando il dito verso tutti quelli e ce ne sono tanti dichiarano di avere questa benedetta bacchetta magica avete la bacchetta magica? sembra che ce l'abbiano tutti solo Neschio non c'è la bacchetta magica o ce l'ho magari non mi funziona bene avete la bacchetta magica? state continuando a dire guardiola, guardiola alla Juve, guardiola alla Juve avete la bacchetta magica? allora perché continuate a dire domani? perché domani? io sento dire sempre, sempre domani domani sapremo che domani vedremo che domani sentiremo che domani che? ma domani di che? ma domani che? domani domani così è facile così posso farlo anch'io domani 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 ma domani di che? ma domani di che cosa? perché poi l'unico cretino no l'unico cretino che nell'ipotesi remota si avverasse questo passaggio di Guardiola all'evento l'unico cretino che poi sembrerebbe fare la figura del povero ebete sono io non è non è così non è così perché innanzitutto innanzitutto non ho mai mai detto che sia impossibile io ritengo che Guardiola alla Juventus sia un'ipotesi remota sia quella che ad oggi più di tutte le altre tutte le altre scarte scarterei basta documentarsi un pochino per capire che l'allenatore più papabile ad oggi è Sarri ma non è bello dire così cioè se io inizio a fare i video e io inizio a dire guardate che Sarri è l'ipotesi quella che ad oggi mantiene maggiormente banco però c'è anche il fatto che Guardiola possa arrivare alla Juve se la se la introduco così se la non fa presa se la introduco così allora no io mi porto avanti la teoria di Guardiola però dico domani 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 non funziona così è facile cioè così così è facile così siamo tutti maestri così è facile domani 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 cioè adesso la nuova teoria la nuova teoria sposata un po' da tutti e che questo domani è rinviato a qualche altro domani perché si sta aspettando un pochettino la sentenza al City se parteciperò o meno alla coppa adesso il futuro di Peppe è deciso da 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 queste ipotesi qua dal fatto che il City faccia meno le coppe non è più il domani ma adesso è un domani che è spostata a un altro domani perché c'è da c'è da vedere un pochettino se Guardiola farà almeno le coppie con il City non funziona così 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 è facile così è facile illudere ripeto ripeto perché poi siete quelli che etichettano che pensa magari Neschio ce l'ha con Guardiola no non ce l'ho con nessuno ce l'ho con tutti quelli che e non solo per Guardiola che poi il concetto a me piace ragionare di concetti non è che non è che ragiono solo sul caso specifico cioè il fatto che si utilizza che molti dicano di avere questa benedetta bacchetta magica cioè è pazzesco ovviamente è una metafora quella della bacchetta magica ma tutti hanno strafonti controfonti io non capisco perché veramente l'unico coglione su questa faccia della terra però sono io io non capisco perché non lo so da me o perché sto al sud e non ci arrivano le fonti starò al sud e non arrivano cioè forse è questo mi trasferirò e magari lì arriva la notte è questo domani comunque aspettiamo domani perché adesso bisogna aspettare un domani di un altro domani però nel frattempo ci faccio i video domani domani io ogni giorno farò il video su Guardiola alla Juventus così vi anticipo quello che accadrà domani cioè lo faccio anch'io funziona funziona dai dai per favore per favore un minimo un minimo un minimo un grande abbraccio da Neschio un minimo